Buongiorno signora, posso farle un'intervista breve? Siamo gli amici dell'Olona, mi dice il suo nome? Titti dell'Appa. Titti e lei è di Legnano? Sono legnanese. Volevo chiederle, ha dei ricordi di com'era l'Olona fino a qualche anno fa? È molto peggio, adesso è una meraviglia, vedere questo e pensare un po' più avanti fa sognare. Facciamo un po' di ripresa sul fiume, oggi è veramente bellissimo. Troppo bello. Veramente bello. Lo vedo già pieno di bambini che giocano. Bene, e niente, cosa ne pensa di questa giornata dell'Olona dedicata alla pulizia? Bravissimi, bravissimi, infatti vedo che ci sono anche tanti volontari. Sì, magari l'Olona potrà diventare veramente un fiume, tornare ad essere un fiume. È un fiume, è una bella ricchezza per qualunque città, perciò io verrà... Ah, guarda, sta anche l'olona che pesca. Ah, sta pescando. Forse sta tirando fuori qualcosa. No, ma qualcuno che pesca c'è già, poi forse non li mangia. Bene, signora, la ringrazio. Se vuole dire qualcos'altro... No, sono contenta, continuate. Speriamo sempre meglio. Va bene, grazie, signora. Grazie.